Ciao ragazzi, ben ritrovati su Advanced VR Fair, sono Ben, rieccoci all'ormai consueto appuntamento con le notizie più rilevanti sul mondo della VR rilasciate durante la terza settimana di gennaio. In questo video ti darò qualche notizia in più riguardo all'aggiornamento V37, che pare stia creando più problemi che altro, e ti parlerò anche di Hitman 3 VR, al quale dedico soltanto un piccolo spazio all'interno di questo video perché non vale la pena farci un video dedicato. Partiamo subito con le notizie. La Federal Trade Commission degli Stati Uniti sta indagando su Meta per pratiche non concorrenziali. La notizia è riferita da Bloomberg attraverso un rapporto di Mark Gurman e Naomi Nix, giornalisti della rivista, nel quale viene detto che il mese scorso la FTC ha aperto l'indagine antitrust nei confronti di Meta per l'acquisizione della piattaforma Supernatural, e lo scopo dell'indagine è quello di verificare che Meta, avendo un'enorme potenza d'acquisto, non la utilizzi per soffocare la concorrenza, semplicemente acquistandola. Tra queste pratiche non concorrenziali c'è anche la vendita del Quest 2 a un prezzo chiaramente in perdita. Ma questo lo sapevamo già, quindi non è un mistero che Mr. Facebook sta cercando di schiacciare la concorrenza e laddove non può acquistarla cerca di rendergli la vita impossibile, come ha già fatto per esempio con Virtual Desktop e Big Screen. E' bravo Don Marco, baciamo le mani. Ricordi Phantom Cover Tops e Fracked? Gran bei giochi, eh? Lo sviluppatore è Ndreams, il quale nei giorni appena trascorsi ha annunciato di aver fondato Elevation, ramo dello studio di sviluppo che si occuperà di sviluppo di titoli AAA. Per chi non lo sapesse, AAA non è un acronimo con un significato particolare, non significa proprio nulla e viene utilizzato per indicare quei giochi che hanno dietro un grosso team di sviluppo, con un nome importante, e per il quale sono stati spesi tanti soldi. Ora, se Cover Tops era già un giocone e non è un AAA, immagina cosa riuscirebbe a fare Ndreams con molti più soldi e con un team di persone con molta più esperienza nello sviluppo in VR. Dopo Resident Evil 2 e 3 è esplosa la mania delle mod VR, e da allora altri giochi hanno ricevuto il loro adattamento in VR. Uno di questi è Life is Strange Before the Storm, con la mod sviluppata da TrevTV. Supporta i controller VR, ma soltanto ai fini di mappatura dei tasti. Anche perché Life is Strange Before the Storm non lascia molto spazio all'interazione personale dell'utente. Questa mod inoltre funziona solo con il prequel, appunto, Before the Storm, e non invece con la serie originale. Ubisoft è finalmente al lavoro su... Eh, ci stavi cascando. Credevi fosse Splinter Cell VR o Assassin's Creed VR? E invece no. Si tratta di un escape room ambientato a Parigi e precisamente all'interno della cattedrale di Notre Dame durante l'incidente che ne causò l'incendio nel 2019. Si tratta di un'esperienza basata su posizioni, che mette l'utente al centro, appunto, dell'incidente del 2019, ed è un'esperienza direttamente collegata ad un prossimo documentario di IMAX, dal nome, appunto, Notre Dame on Fire. E l'uscita è prevista a marzo 2022. Non so se hai visto il video in cui ho introdotto tutte le novità e le nuove funzioni che sono state aggiunte con l'aggiornamento V37. Come ti faccio vedere nel video, appunto, molte delle funzioni promesse o non ci sono, oppure in realtà erano già presenti negli aggiornamenti precedenti. E come dico sempre, secondo me, meta ci sta prendendo per il culo e mese dopo mese va a peggiorare. Questa volta l'ha fatta bella grossa, perché con l'aggiornamento V37, molti utenti stanno lamentando un peggioramento della visuale, perché abbassa di molto la nitidezza, che già non era delle migliori. Inoltre, i confini stazionari non hanno più la griglia del Guardian, ma praticamente quando superi i confini dell'area di gioco, direttamente davanti a te si apre il pass-through. Quindi non vedi più la griglia, ma quando superi direttamente vedi la stanza in bianco e nero. Inoltre, molti utenti lamentano problemi con i controller, cioè controller che perdono continuamente il tracciamento, e a me succede. Oppure che vengono dissociati e che non sono più riassociabili con il visore, neanche attraverso l'applicazione, neanche facendo nuovamente la configurazione dei controller. Insomma, meta. Si sta così tanto concentrando sul metaverso, che non riesce a fare neanche un aggiornamento del c***o su un visore da 300 dollari. Invece di investire in pubblicità meta, dovrebbe investire su un buon team di sviluppo. Iron Rebellion, promettente gioco di combattimento tra mech, offre nuove funzioni. La più importante è il combattimento 4 contro 4. Le altre novità riguardano due nuove armi disponibili, una nuova mappa, e altre aggiunte minori nella baia dei mech e alla cabina di pilotaggio. Il prossimo step annunciato da Black Beach Studio riguarda un update completo per il multiplayer, che comprende nuove classi mech, 12 armi, nuove mappe e nuove modalità di gioco. Allora, parliamo un attimo di Hitman 3 VR. Sai benissimo che qualche giorno fa è stato rilasciato il supporto al VR per la versione flat, che a differenza della versione PSVR, ti consente di utilizzare liberamente le tue mani. Quindi stiamo parlando di supporto completo ai controller VR. Tutto sembrava molto bello, ma ci sono tanti di quei problemi, che non saprei neanche da dove cominciare, quindi mi limito ad elencarli. Intanto viene proprio dichiarato dagli stessi sviluppatori che il Reverb G2 non è supportato da questa modalità VR, non funziona proprio. Ma se vai a vedere l'ottimo video di Back to VR, puoi vedere che lui sta tranquillamente giocando con il Reverb G2, ovviamente con tutti i problemi che ha il gioco. Sì, puoi muovere liberamente le mani, ma non puoi afferrare per esempio due oggetti contemporaneamente. Questo perché? Perché il sistema di presa è come se fosse ancora programmato sul joypad. Inoltre il gioco non ti spinge a ruotarti fisicamente, ma a utilizzare la levetta del controller. Perché inoltre, provando a girarmi fisicamente, e guardando l'avatar di 47, il personaggio praticamente si attorciglia. E se io provo fisicamente a spostarmi destra, sinistra, avanti e indietro nell'area di gioco, il personaggio 47 resta lì dov'è, e io praticamente, se vado indietro, addirittura posso vederlo come se fosse in terza persona. Questo significa, per dirlo in poche parole, che questo adattamento in VR non è room scale, proprio come il VR di PSVR, perché il VR di PSVR non è room scale. Devi stare sempre fisso davanti a quella videocamera e se ti sposti o perdi il tracciamento oppure sballa tutta la visuale. Altro problema, per esempio, sulle mani virtuali è che si trovano molto più in basso rispetto alle tue mani reali. Quindi se io, per esempio, alzo il controller qui, la mia mano virtuale in realtà sarà qui. E gli oggetti, anche quando li prendi dall'inventario, inventario fra l'altro anche problematico, quando li prendi dall'inventario non fa il movimento di prenderlo e tirarlo su, ma improvvisamente te li trovi in mano come se fossero acchiappati da una calamita. A proposito dell'inventario, per esempio, non ce l'hai sul corpo, come solitamente avviene per i giochi in VR, ma devi sempre aprire un menu al quale andare a selezionare l'oggetto, l'arma o quello che vuoi utilizzare, e quindi puoi selezionarlo e appunto te lo ritrovi direttamente in mano. Insomma, non mi dilungo troppo perché i problemi non sono solo questi, ma ce ne sono tantissimi altri. Il problema qual è? Io capisco perfettamente che non è una versione nativa, ma è un adattamento, è un supporto al VR, ma il gioco è sempre la versione flat. Però uno studio di sviluppo come IO Interactive, che ha una lunga storia alle spalle e una grandissima esperienza, mi sarei aspettato un lavoro molto migliore rispetto a quello che ci hanno presentato. Comunque, per adesso io questo gioco lo metto da parte, perché me lo volevo giocare in VR, nella speranza che gli sviluppatori continuino a lavorarci su, fino a tirar fuori un qualcosa di accettabile. Per adesso lasciate stare. E siamo al consueto momento in questo video del Come ti dimostro che l'utenza media non capisce un pazzò e sa soltanto scagliarsi contro chi critica qualcosa che ama in modo malato. Ken Kutaragi, creatore di PlayStation, ha dichiarato di non amare i visori VR, perché sono scomodi, perché sono fastidiosi e il metaverso non avrebbe motivo di esistere. Da queste frasi di Kutaragi è esploso il delirio in rete. Ma i commenti che più mi hanno fatto ridere sono i classici nerd da tastiera, i quali sono lì a dire che Kutaragi non ne capisce niente di tecnologia, di videogiochi e di realtà virtuale. Per chi non lo sapesse, Kutaragi è il papa di PlayStation. Ragazzi, stiamo parlando dell'inventore della PlayStation. Capito? Per poi sfociare ovviamente in insulti personali, minacce, e tutto il peggio che la comunità che ruota soprattutto intorno a Quest 2 può offrire. Ora, diciamoci la verità. I visori VR sono scomodi e fastidiosi? Sì. Perché non dobbiamo dirlo? Ti premano sulla faccia, sono pesanti, ci sono i fili. Eh ma il Quest 2 non ha fili! Ma falla finita che già ti vedo lì, attorcigliato intorno alle cuffiette. A litigare col filo del power bank. O cercare di non strangolarti quando giochi col Quest 2 collegato alla presa di corrente, in carica. Dai, utente medio Quest 2, non fare finta di non farle queste cose. Lo sappiamo benissimo, perché noi ti vediamo e sappiamo benissimo che lo fai. Quindi, sì, sono scomodi e fastidiosi. E ovviamente sai già benissimo che sono d'accordo con lui per quello che ha detto sul metaverso. Anche perché di questa cosa ne avevo già parlato nel mio video. Cutaragi non ha detto niente di sbagliato. Anzi, ha detto la verità. E forse proprio per questo ha sollevato questo polverone. Perché si sa, la verità è difficile da digerire. La verità fa male. Avrai sentito parlare dell'acquisizione di Blizzard Activision da parte di Microsoft. Per me si tratta di un evento veramente eccezionale. Non solo per il costo dell'operazione che ammonta a 68 miliardi di dollari. Ma perché questo avrebbe un peso importante anche per la VR, la chiave di tutto ciò sta in Xbox. La console, infatti, con un aggiornamento di qualche mese fa, dava una schermata in base alla quale si poteva intuire che presto ci sarebbe stata la possibilità di collegare un visore VR. Il candidato numero uno sarebbe il Reverb G2 perché essendo stato realizzato da una collaborazione tra HP e Microsoft potrebbe essere quello il visore ufficiale da utilizzare con Xbox. Anche se finora nessuno è riuscito a capire come collegare e far funzionare un visore alla Xbox per qualsiasi scopo, anche per visualizzazione di contenuti multimediali, ma semplicemente perché ancora non è possibile farlo. Tuttavia, questo apparente supporto alla realtà virtuale più l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft sembrano essere tasselli di un puzzle molto più grande che potrebbe essere un futuro annuncio da parte di Microsoft di un visore proprietario che farebbe la concorrenza a PSVR2. Ovviamente questa è solo una mia ipotesi, sto mettendo insieme i pezzi, però tutto questo mi fa pensare che in Microsoft si sta muovendo qualcosa per quanto riguarda il settore VR, anche se ricordiamoci che Microsoft ha già una divisione VR con la quale hanno anche costruito un visore proprietario per la Mixed Reality. Vedremo come andranno le cose. Anche Google sta lavorando a un proprio progetto per realtà mista. Il progetto si chiama Project Iris e dovrebbe vedere la luce nel 2024. Alex Heat, giornalista di The Verge, ha riportato informazioni relative a un visore con fotocamere esterne per il tracciamento e utilizzo di computer grafica per la visualizzazione dell'ambiente circostante. E questo ti ricorda qualcosa? Sì, esattamente. Il pass-through dei visori Oculus. Nel caso di Iris, però, non sarebbe un pass-through in bianco e nero dell'ambiente circostante, ma sarebbe, grazie all'utilizzo appunto di computer grafica, una sovrapposizione di un mondo virtuale sovrapposto appunto a quello reale. Google, inoltre, sembrerebbe di voler fare tutto in casa propria, tant'è che sta lavorando anche a un chipset personalizzato da utilizzare proprio con Iris, il quale, sempre appunto secondo questo rapporto, potrebbe addirittura supportare Google Stadia. Quindi, questo significa che questo visore di Google sarebbe in grado di eseguire giochi, sicuramente anche in VR, senza bisogno di un computer. Il team al lavoro su Iris è imponente, stiamo parlando di 300 persone che lavorano sotto la guida di Clay Bevor, che sarebbe il SEO di Alphabet Sandar Pichai. Bene, anche per questa settimana siamo giunti alla fine e mi stupisce vedere che sempre più aziende e nomi importanti si stanno interessando e impegnando nel settore VR e Mixed Reality. in passato altre volte la VR ha cercato di venire a galla ma finora non c'è mai riuscita e forse stavolta grazie alla tecnologia di cui disponiamo potrebbe essere la volta giusta. Parliamone tra i commenti. Grazie per la visione, like, iscrizione e campanella. Da Bene è tutto, ci vediamo alla prossima e ci vediamo in VR. Ciao ragazzi. 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 Ciao ragazzi.